Il riparto dei tagli, sì. No, perché ci ho detto che avete trovato più o meno un punto di... Allora, sì, va chiuso per legge entro il 31 di gennaio, l'intesa sui tagli, cioè su come operare i tagli. Come ripartire tra le regioni e i tagli. Perché uno pensa che ci danno i soldi, no? Sì, no, no, no. È la ripartizione dei tagli in campo alle regioni. Sì, di come avete trovato questa intesa, quindi? Per parte nostra, sì. Ah, ok. Il governo ha qualche perplessità, vediamo se riusciamo a concluderla siamo tutti contenti, altrimenti vediamo di regliare oppure di non farlo. Ok.